Noi rappresentiamo quattro pubblici diversi, vorrei sfatare dei miti. Non è soltanto un tema legato a velocità. Qual è la politica estera del nostro paese? Un rapporto tra comunicazione e politica estera, un rapporto non sempre semplice e certamente non scontato. Oggi naturalmente parleremo anche delle responsabilità nostre come diplomatici che abbiamo spesso difficoltà nel comunicare temi che appagiano a noi vicini perché siamo addetti a lavori ma più lontani al grande pubblico. Vi è un'urgente esigenza non solo di una farnesina a misura di media ma anche di media a misura del sistema italiano. Noi cerchiamo, cercate, cerchiamo insieme di trovare il modo in cui quando si parla di estero si parla di interno. Le televisioni, i giornali, partiamo da questo assunto, parlano poco di politica estera. Ecco ma la politica italiana, tolto il ministro degli esteri, parla di politica estera e di politica internazionale? Quasi niente. La questione di fondo non è il rapporto tra informazione e politica estera, è il fatto di rimettere la politica estera nell'elenco delle priorità della politica e delle istituzioni italiane. Ci vuole innanzitutto che ci sia il prodotto da vendere e il prodotto da vendere è una politica estera alta, forte, chiara, chiara negli obiettivi e quindi nei passi che si fanno. Ormai una notizia dagli esteri viene raccontata sia dal giovane blogger su una piazza in Iran che riprende una cota con il suo telefonino e diventa una testimonianza che immediatamente rimbalza in tutto il mondo, che le pattuglie di mezzi satellitari sofisticatissimi, come si superano le percezioni fuorvianti? Beh sicuramente va tenuto presente il fatto che ormai le informazioni arrivano con una tale velocità ma anche da tantissime fonti che quindi altrettanto veloce deve essere la reazione della fonte istituzionale e ufficiale sul grande fatto di politica estera. Se io fossi un diplomatico, se io fossi un funzionario del ministero degli esteri mi batterei per restituire un'autonomia di orientamento e di scelta alla Farnesina. La Farnesina vi propone di lavorare insieme a sostegno dell'Italia come sistema, a sostegno della politica estera, per aiutarci a identificare, a promuovere insieme e a sostenere l'interesse nazionale. è uno slogan, lo slogan è sforzo comune, nel senso che non andiamo da nessuna parte se non si lavora insieme.